Un progetto fatto da giovani per i giovani, così l'assessore alle politiche sociali del Comune di Biella, Isabella Scaramozzi, all'inaugurazione del nuovo alloggio di Via Ponderano 12, nato nell'ambito del Bando per la Riqualificazione Urbana. L'intervento di recupero della palazzina ha consentito a destinare uno degli alloggi, attraverso il progetto Una Casa per Crescere, all'ospitalità di ragazzi e ragazze nella fascia d'età 18-20 anni, residenti nel biellese, che, dismessi dalle comunità o dalle case famiglia o terminati progetti di affido al raggiungimento della maggiore età, si ritrovano senza una casa, senza risorse economiche e senza un lavoro, a dover affrontare un inserimento nella società. Innanzitutto è veramente un grande piacere poter fare qualcosa di utile per la città, più che altro io faccio un'inaugurazione, qualcosa di utile l'ha fatto il Leo Club e questi ragazzi fantastici che per una volta il Rotala e il Leo Club insieme si sono uniti per portare alla città in dono un appartamento che può servire proprio alle persone più giovani ma che possono anche essere un po' più fragili e che hanno dei problemi. Quindi davvero grazie a questi ragazzi che hanno saputo trasmettere non solo il loro entusiasmo ma anche azioni concrete a favore della cittadinanza. Un progetto rivolto a giovani ragazzi e ragazze che terminano con il raggiungimento della maggiore età il loro percorso o in comunità o in un percorso di affido o comunque devono rendersi indipendenti. Rendersi indipendenti a 18 anni non è facile per questo è nato questo progetto che si chiama proprio una casa per crescere proprio perché dobbiamo insegnare loro a crescere, cercare di introdurli nel mondo del lavoro, cercare di insegnare loro la gestione di un appartamento e che ha saputo coinvolgere tutti i soci dei due club è stato fatto un lavoro incredibile con un entusiasmo da parte loro che è stato veramente grande, grande, grande e quindi se oggi siamo arrivati ad un'inaugurazione possiamo dire grazie a loro. Io spero che la collaborazione con loro continui anche per altri progetti e quindi siamo felici. Credo sia uno dei più bei progetti rivolti ai giovani di questa amministrazione e ne sono fiera. Come già diceva Isabella, come diceva l'assessore e il sindaco, il mobilio, tutto quello che era la ristrutturazione è stata fatta logicamente dal comune con fondi anche perché esorbitavano quelle che erano le nostre possibilità finanziarie. Noi ci siamo occupati di tutto quello che è su pellettile, quindi dal lenzuolo al cuscino, al copredivano, anche agli elettrodomestici, la televisione, la lavatrice che ci siamo portati a mano sopra quegli scalini in maniera non così agevole, in realtà, a tutto quello che sono piatti, stoviglie, eccetera. Quindi di fatto tutto ciò che non è mobile... Buongiorno, sono Silvia Cerrato, presidente uscente del Leoclub Biella. Mi ripeto un po' rispetto a quanto detto dall'altro past, cioè sono molto contenta di questo progetto e devo dire che forse è uno dei più belli che abbiamo realizzato. Buongiorno a tutti, io sono Marta Barbirato, presidente attuale del Leoclub Biella e niente, rispetto a quello che hanno detto i miei amici, posso solo dire che sono molto felice che in quest'anno siamo riusciti ad avere la possibilità di dare una conclusione a questo progetto. Sono Lorenzo Vetri, attuale presidente del Leoclub Biella, succedo al mio past Paolo che ha effettuato un ottimo lavoro assieme a tutti i ragazzi del Leo e volevo solo ringraziare l'amministrazione e soprattutto i ragazzi del Leoclub con i quali abbiamo collaborato perché sono stati molto attivi, in parte secondo me anche più di noi.